La strada davanti a sé, questo è un anno di ricorrenze importante. Il mio dito da rappresentante di una regione del dialogo e dell'accoglienza comunale. Abbiamo bisogno, per l'Europa del XXI secolo, di instituzioni più efficaci, più democratiche e più transparente. Abbiamo bisogno di più di coerente sul piano institutionale. Io le dico ancora una volta, il traito di Nice non è sufficiente. Abbiamo bisogno di una risoluzione della questione constitutionale in Europa. Sono mesi che lo ripeto, è bene ripeterlo ancora. Alla vigilia del vertice di Berlino non ci sono alternative a quella di avviare il processo di rilancio ripartendo dal trattato costituzionale firmato nell'ottobre del 2004 a Roma. Grazie. 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 Grazie.